benvenuti a g il podcast di chi usa le parole al meglio perché come insegna la mia coach giulia momoli quando cambi come pensi cambia come ti senti e di conseguenza cambia quello che puoi fare e come puoi cambiare come pensi con le parole usando le al meglio le parole sono nella mia non modesta opinione la nostra massima inesauribile fonte di magia in grado sia di infliggere dolore che di alleviare e quindi è il momento di dare nuovo significato alle parole facciamolo insieme parola del giorno grinta parola molto 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 utilizzata e spesso abusata nel mondo sportivo prevalentemente nel mondo del calcio da vediamo veloci deriva dal gotico grimmita che fa paura è una faccia burbe arcigna o truce la definizione che la treccani da e del tipo ha una grinta da far paura c'è anche quest'altra quest'altra definizione che è molto interessante la grinta è quella cosa che ha la persona o l'atleta in questo caso che coraggiosamente cerca il contatto o la lotta con l'avversario ok quindi in sé il termine grinta ha dentro il concetto di paura di coraggio due opposti fantastici e poi il contatto e la lotta con qualcuno che è un tuo avversario che un po si mette tra te il risultato ora ragioniamo velocemente cosa aggiungi tu al tuo essere con la grinta chiediti questo io cosa aggiungo con la grinta beh sicuramente il coraggio se ho grinta riesco a battere la paura è un po come se il termine grinta nascesse dal qualcosa che fa paura ma dentro ha già la soluzione che è il coraggio di affrontare quello che ti fa paura quando hai il coraggio non vuol dire che la paura si elimina anzi probabilmente la paura sale di livello ma tu la guardi in faccia lotta con la tua mente per guardare in faccia la paura affrontarla spesso e volentieri quando abbiamo problemi di vario tipo che ne so non riusciamo a fare una cosa ci inventiamo mille scuse non ho tempo non ce la faccio non me lo merito non potrò mai farcela non ne sono capace ok tutte semplicissime scuse che se anche tu che sono scuse ma continui a mettere la tua testa la grinta il coraggio in questo caso quindi il coraggio di andare contro queste cose che ti fanno paura sono la soluzione perciò cosa aggiungi tu con la grinta al tuo essere non tanto a quello che fai ma il tuo essere perché ricorda una regola base del mio lavoro come mental coach tu non sei i risultati che ottieni tu non sei i tuoi risultati tu sei la persona che diventi che persona può farti diventare la grinta postilla finale su cosa evitare in 30 secondi perché è importante a volte chiederti cosa devo aggiungere ma a volte devo chiedermi anche cosa evitare evita che la grinta e la voglia di tener duro diventi costante nella tua giornata nella tua vita perché è fatica inutile quando senti che stai esagerando nel tener duro nella determinazione in tutti quegli elementi che sono fatica per il nostro cervello cambia lo sguardo se stai tenendo duro perché che ne so vuoi raggiungere un obiettivo e stai facendo fatica non ce la fai ma continui ad allenarti a dare tutto e a arrivare alla sera distrutto perché vuoi arrivare a quell'obiettivo ecco vuol dire che quando poi ci sarà da raggiungere con l'obiettivo da far fatica in quel momento lì da metterci grinta probabilmente il tuo corpo l'avrà esaurita perché la grinta si esaurisce risparmiane un po utilizza altre altre cose che hai dentro altre emozioni positive che hai dentro guarda al motivo per cui fai le cose mettiti nella tua testa un obiettivo positivo una ricompensa bella da raggiungere e poi fallo con voglia piacere sensazione di dare qualcosa a te stesso e agli altri quando poi ti manca quando poi sei arrivato che tutte le sensazioni positive le usate al meglio ecco lì aggiungi la grinta diventa una di quelle persone che lotta con la mente per aggiungere coraggio a tutte le cose che fai questo è il punto di svolta secondo me trasforma la grinta in una cosa che devi avere tutti i giorni dalle da quando ti sveglia quando vai letto in una cosa che ci usi proprio col contagocce e la butti dentro quando ti serve e quando la usi la usi al 200% grinta è fare paura e coraggiosamente combattere contro la tua di paura consiglio e domanda finale di questa velocissima riflessione sulla grinta cosa puoi fare grazie alla tua grinta e che cosa la tua grinta ti sta togliendo ricorda paura da una parte coraggio dall'altra è solo se usi una faccia che fa paura alla tua stessa paura che batti coraggiosamente quello che ti sta bloccando tieni in mente questa cosa usa il coraggio usa la grinta quando serve crea una strada davanti a te bella che ti piace raggiungere quando la strada si muove un po e non la trovi più sei un po perso infilaci dentro buttaci dentro grinta e coraggio e raggiungi l'obiettivo